È la stampa e la tv bellezza. Domenica 13 gennaio, a Treviso, si è svolta la seconda edizione del convegno organizzato dall'associazione Salus Bellatrix. Nella sala dell'hotel maggior consiglio, sede dell'incontro, un gruppo di persone con punti di vista diversi hanno affrontato vari temi per riflettere su fatti e misfatti dell'informazione ufficiale, spesso strumento di manipolazione. Un incontro-dialogo, moderato da Valerio Malvezzi, è trasmesso in diretta streaming da BioBlu. Oggi è stata una giornata particolarmente interessante perché soprattutto io ho apprezzato il taglio multiculturale, cioè c'è stato un taglio per il quale ci sono state persone come me che parlano di economia, ma persone che hanno parlato di PNL, persone che hanno parlato di filosofia, persone che hanno parlato di medicina. Insomma è stato un taglio assolutamente interessante perché ci fa capire che la dimensione dell'uomo non è a scatole compartimentali, ma noi siamo come dire un qualche cosa di molto complesso che va esaminato sotto diverse ottiche. Quindi lo dico da uomo che si occupa di finanza, la finanza non è la prima cosa. La prima cosa è l'uomo e quindi avere ascoltato delle persone, delle donne, degli uomini che parlavano dell'uomo nel senso dell'umanità è quello che mi è piaciuto di più. Filoconduttore, il tema delle cosiddette fake news. Notizie inventate, ingannevoli o tendenziose pubblicate per disinformare o distorcere la realtà attraverso i media. I gestori del consenso hanno tutto l'interesse a fare sì che il consenso non subisca interferenze da parte di voci non allineate e quindi sono misure che vanno pienamente in questa direzione mi pare, cioè quella di garantire che l'ordine della società dello spettacolo non subisca interferenze. Il web lo dico da utente e da persone che mette dei contenuti sul web perché sia un blog che parla di banche che si chiama Win the Bank, sia un blog che parla di macroeconomia che si chiama Malvezzi Europei. È diverso, è completamente diverso. Quando io vado in una trasmissione televisiva o in una radio strutturata per così dire, tutto è innanzitutto legato ad un palinsesto molto rigido e a dei tempi molto contingentati. Per esempio la stessa notizia che ho dato oggi sul tema BlackRock, che per me è uno dei temi più importanti, cioè il fatto che un operatore finanziario sembrerebbe sia stato incaricato dalla BCE di fare le analisi sulle banche, che poi sono stato oggetto di fusione in questi anni, è diventata una notizia con un trafiletto, di fatto un articolo per addetti ai lavori sul Sole 24 Ore. Nessuno l'ha ripreso o pochissimi l'hanno ripreso a livello nazionale. invece oggi c'è stata la possibilità di parlarne per venti minuti, mezz'ora. Allora parlare per due minuti, come mi è capitato in alcune televisioni nazionali, o venti minuti è diverso. E soprattutto la possibilità di fare dei ragionamenti articolati, perché il web ti consente di parlare direttamente alle persone, di avere risposte. Volendo tu puoi rispondere. Certo si presta agli haters, si presta a quelli che ti insultano, si presta a quelli che dicono che tua mamma faceva un brutto lavoro. C'è di tutto, no? Perché è la libertà. Quindi ha degli elementi positivi, ha degli elementi negativi. Io temo che si voglia mettere il bavaglio a quella libertà, perché è molto più comodo controllare l'informazione da parte dei potentati, prevalentemente esterovestiti, su un numero specifico di operatori, che vengono considerati i sacerdoti, no? Quelli che hanno la religione in tasca, in questo caso la religione della comunicazione. E tutti gli altri vengono derubricati a comunicatori di fake news. Questo è molto rischioso. Chi pensa di essere stato, di aver assunto il ruolo del moderatore cattivo... Nel concreto, come abbattere la manipolazione che le lobby esercitano sulle persone? Anzitutto sollevando il dubbio socratico sulla bontà di quello che vediamo sugli schermi o che leggiamo sui rotocalchi, iniziando a dubitare e provando a ragionare con la propria testa, che è la cosa più fondamentale che ci sia di tutte. Spunto di riflessione per la giornata è stata anche la recente legge sul copyright, su cui sta lavorando l'Unione Europea. Io penso che siano direttive profondamente sbagliate, profondamente ingiuste e profondamente chiaramente a favore di un potere oligarchico e non democratico, ma del resto l'Unione stessa è stata creata in quel modo. Le pare normale avere un'Unione Europea che è l'unico posto al mondo in cui il Parlamento non può fare le leggi? Questo le dà già l'idea di quanto sia democratica. Oppure avere una banca centrale che è quella che teoricamente stampa la moneta con la quale noi adesso andiamo a pagare un caffè e in realtà non ha natura pubblica ma ha natura privata e non c'è nemmeno la possibilità di un controllo da parte di governo e Parlamento. Ecco, non può che fare delle leggi antidemocratiche un sistema che è stato pensato non per la democrazia ma per la oligarchia e per la tecnocrazia. Un dibattito di informazione sull'informazione per riflettere e risvegliare le coscienze sul rischio della manipolazione mediatica delle notizie.